buongiorno ben trovati ancora con moversini toscana in studio mauro ciuttini lavori sulla 12 siamo tra sestri levante e lo svincolo di livorno in direzione di rosignano sono quattro le code al momento per i lavori sulla firenze pisa livorno tra montelupo fiorentino e ginestra fiorentina in direzione di firenze veniamo alla 11 segnalato un veicolo in difficoltà tra prato ovest e prato in direzione di firenze c'è ancora un controllo di velocità sulla 1 tra incisa reggello e firenze sud in direzione di firenze lavori per la tranvia firenze restringimenti di carreggiata l'incrocio tra via allori e via di novoli per chi proviene da viale gramsci con orario 7 18 è tutto per il momento moversini toscana con regione toscana città metropolitana di firenze e comune di firenze un viaggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti